Il compost viene utilizzato come nutriente nei terreni di agricoltura e anche come ammendante quindi per migliorare le proprietà del suolo e permettere una crescita migliore delle piante. L'utilizzo del compost di qualità è fondamentale per preservare la sostanza organica presente nel terreno, migliora le caratteristiche fisiche dei terreni, aumenta la capacità per esempio di ritenzione idrica, cioè del terreno di trattenere umidità a tutto beneficio delle radici delle piante ed è anche un soppressore delle malattie delle piante, quindi svolge numerosi ruoli molto importanti per aumentare la fertilità del suolo e quindi frena il degrado biologico e aiuta a ridurre le emissioni di gas serra e quindi il compost è sostanzialmente un nuovo prodotto che deriva dalla trasformazione dei rifiuti organici e trova il suo impiego primario nel settore dell'agricoltura. Nel settore dell'agricoltura va anche nel settore florovivaistico, quindi viene poi distribuito nei garden center o nei supermercati e anche nel settore dell'agricoltura.